Ciao a tutti dal Salutatore, grandissima sorpresa, la grande Iena Dino Giarusso. Io sono entusiasta di stare qui con il Salutatore, non lo conoscevo ma adesso lo conosco, il Salutatore. Ricordatevi del Salutatore. Ti ringrazio, salutatelo. Ciao. Vi saluto e anche lui vi saluta, vi salutiamo perché lui è il Salutatore. Lo sapete. Vi salutiamo i tuoi fans, salutiamo. Ce n'hai tantissimi. Piliardi, credo che anche in Cina, ho saluto che c'è un fan club in Cina. Dino Giarusso è il Salutatore, un unico fan club. Saluti, salutiamoli e una cosa, sul web tu stai su Facebook, su Twitter e basta. Basta, le altre cose erano già due, sono tante. Perfetto, salutiamo tutto il web allora. Vi saluto. Ciao, grande Dino. Ciao, ciao. Vi ringrazio, ho fatto piacere. Siamo quasi con lei che facevi il saluto? No, no. No, no, prima. Prima, eh, così. Ragazzi, buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao.